Cinque anni più tardi, cinque anni dopo la pubblicazione del libro di Darwin, che questi nuovi resti vengono interpretati come una nuova specie. Fino a quel momento la specie conosciuta del genere Homo era Homo sapiens. Invece questo studioso inglese, William King, si rende conto che queste caratteristiche morfologiche di questi resti erano attribuibili a un'altra specie sempre appartenente al genere Homo ma diversa per tutta una serie di caratteri. Ed ecco così che crea la specie che a tutt'oggi porta il nome di Homo neandertalensis, è l'uomo di Neandertal.